presentati sono nato certaldo nel 1313 ero il figlio illegittimo rimarcante che mi riconobbe successivamente da Firenze mio padre mi portò con sé a Napoli per avviarmi al suo lavoro in quella città invece di dedicarmi all'attività di cambio a valute preferì dedicarmi agli studi letterari sono conosciuto anche per il mio amore per Madonna Fiammetta. Come sei diventato scrittore? A Napoli pur seguendo gli studi accademici ero affascinato dalle storie che sentivo al banco commerciale dove stavo con mio padre poi sono stato obbligato a seguire mio padre a Firenze per ragioni economiche da Firenze mi sono spostato a Ravenna in cerca di una collocazione non avendo ottenuto ciò che volevo sono tornato a Firenze proprio in concomitanza con la peste nera che è ispirata la mia opera più famosa il Decameron che completai nel 1351 prima di Decameron ho scritto altre opere che hanno avuto un discreto successo. Cosa ispira le tue creazioni? L'animo umano in particolare il Decameron che presenta una grande varietà di temi di ambienti di personaggi e di toni i miei temi sono quelli della fortuna dell'ingegno e della cortesia e dell'amore. Come è stata diffusa la tua opera? Ho avuto successo da subito ma la mia consacrazione giunse nel 1500 ed è continuata sia ai giorni vostri. Come cambierebbe la tua opera ai giorni nostri? La mia opera tratta della commedia umana e di temi che sono sempre attuali. Forse ai vostri giorni programmi televisivi come Il Grande Fratello potrebbero rappresentare una naturale evoluzione. Il Decameron è chiamata la terrestre commedia. In essa Boccaccio affresca l'intero codice etico dell'essere umano che è costretto ad affrontare situazioni in cui si richiede l'ingegno per superare le difficoltà poste dalla fortuna. Racconta la vicenda di dieci giovani che, per sfuggire alla peste del 1348, si ritirarono in una villa di campagna dove trascorrono dieci giornate narrandosi vicendevolmente delle novelle per ingannare piacevolmente il tempo. Comincia il libro chiamato Decameron, cognominato Principe Galeotto, nel quale si contengono cento novelle, in dieci didette da sette donne e da tre giovani uomini.